In relazione allo scandalo Fondo Sociale Europeo, la provincia di Bolzano sta seriamente valutando l'opportunità di nominare un superconsulente da affiancare all'attuale direzione della ripartizione a Europa. Si tratta di Claudio Spadon, attualmente membro della Direzione Generale Occupazione della Commissione Europea a Bruxelles. Bolzanino, per lungo tempo funzionario della provincia di Bolzano, è considerato uno dei massimi esperti della materia in Italia e potrebbe essere chiamato a tentare di risolvere l'intricata vicenda che ha portato al taglio dei fondi erogati in favore dell'Alto Adige a seguito di accertate irregolarità contabili sulle quali sta indagando anche la Commissione d'inchiesta istituita in seno al Consiglio provinciale e che stamani è tornata a riunirsi. L'obiettivo è di accertare eventuali responsabilità in capo a funzionari della provincia. Intanto il rischio che si profila all'orizzonte è che molti imprenditori, lavoratori e studenti debbano rivedere i propri programmi in funzione dei tagli disposti da Bruxelles. Potrei incidere su ditte, su persone che hanno fatto dei programmi e alla fine non vedono arrivare i soldi, cioè è tutto da vedere, però come detto prima io non voglio anticipare niente anche perché bisogna valutare prima tutto seriamente e poi dare i giudizi definitivi. Oggi la Commissione ha sentito Judith Notdurfter, già direttrice dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo in provincia, mentre l'audizione di Thomas Mattà, già direttore della ripartizione Affari Comunitari, è stata rinviata al 9 febbraio.